Io fin da subito ho accolto l'appello di Lumen a sostenere la proposta SALUS perché la sento in linea con queste istanze e per questa ragione ho dato avvia circa un anno fa l'Interest Group SALUS al Parlamento Europeo. Tra le varie iniziative SALUS sostengo l'importanza di iniziative a carattere filosofico e scientifico come i cicli di convegni Info SALUS perché sono volti alla divulgazione di una cultura della salute e della sostenibilità ambientale. Serve sempre di più diffondere una maggiore consapevolezza delle sfide che ci riserva al futuro e sostenere in tanti strategie lungimiranti di risoluzione.